Salute ragazzi, qui è il vostro Archive Parl, sono qui finalmente con qualche piccola informazione per la beta di Vanguard e per tutti quanti i contenuti che aggiungeranno rispetto all'alpha tutti i cambiamenti, ma purtroppo ancora nessuna informazione precisissima per magari il peso della beta o altre informazioni, le date comunque ci sono e molto presto tra tipo 3 giorni ci sarà anche finalmente il reveal del multiplayer vero e proprio per Vanguard come al solito alle 19 di sera. Peschiamo quindi quello del post di Slejammer Games, finalmente saltiamo sul loro sito e non sempre Call of Duty o Treyarch e vedere appunto i cambiamenti che hanno elencato per la beta, le modalità e altre cose del genere. Sicuramente sono interessato perché l'alpha per quanto fosse comunque una prova iniziale del gioco per come al solito poterlo confrontare a Cold War, a Game of the Warfare essendo lo stesso engine e altre somiglianze per vedere magari in seguito tutti i cambiamenti che verranno apportati anche a zombie utilizzando tutti questi sistemi. L'alpha sicuramente era un pezzo molto molto iniziale e embrionale con sicuramente molti problemi tecnici che hanno chiaramente risolto e nella beta lo vedremo. Fin da subito infatti parlano di questi cambiamenti tra alfa e beta e sicuramente la parte visiva, tutta la storia del danno che ogni tanto ci letteralmente bloccava completamente la visuale o altre cose del genere che non funzionavano benissimo, non vedere alcuni nemici in certe zone per problemi di illuminazione o altre cose simili, stati finalmente sistemati. In più tutti i problemi dell'audio, questo è stato un problema che non ho notato in maniera eccessiva ma ogni tanto capitava di sentire dei passi lontanissimi vicini e passi vicini proprio non sentirli, per cui come al solito poter sentire i passi dei propri compagni ma anche dei propri nemici è una parte veramente molto molto importante e altri suoni di armi o mixing vari possono comunque fare la differenza. Ci sono chiaramente tutti quanti dei cambiamenti per Champion Hill che abbiamo provato soltanto nell'alpha, il 2v2 e 3v3 e sicuramente c'erano diversi problemi con quella modalità oltre che essere la prova iniziale l'unica cosa che si poteva provare ma fortunatamente tra pochissimo vedremo che nella beta ci sono anche cose molto più classiche come un deathmatch, un search and destroy, alleluia. Proprio a riguardo ci confermano quelle che sono le mappe quindi Champion Hill per Champion Hill stessa, Hotel Royale, Gavutu, Red Star e Eagles Nest che arriva il secondo weekend che sarà appunto quello di crossplay con PC e Xbox mentre inizialmente è soltanto per Playstation prima closed poi open esclusiva per quella piattaforma. Oltre che Champion Hill già visto nell'alpha, Vanguard avrà anche una modalità chiamata patrol ma tutte le cose anche classiche quindi team deathmatch, uccisione confermata, dominio e search and destroy che arriva se ricordo bene il secondo weekend. Di questo ne sono estremamente contento perché c'è lo stesso problema anche dell'alpha di Modern Warfare quindi nell'alpha avere soltanto un 2v2 o comunque non una modalità classica di Call of Duty multiplayer è chiaramente un problema. Ma già stai comunque provando il gioco, le armi, l'engine, il movimento, il funzionamento di tutto quanto e in più sei comunque limitato a una modalità che a tantissime persone sicuramente non interessa nel gioco finale o non giocherebbero mai o pochissime volte tutti vogliono un team deathmatch anche molto basic che sia 3v3, 4v4, 6v6 qualcosa di veramente minimal per provare il gioco però come sarà anche nella versione finale alla fine tutti quanti giocano comunque appunto uccisione confermata, dominio, search and destroy queste modalità difficilmente i 2v2. Fate anche qua l'elenco preciso, champion heal solo, duo e trio anche questo è molto interessante per poter provare tutti quanti come si deve e non essere limitati a random, a giocare per forza da soli con qualcun altro, duo, trio, quello che si vuole. Team deathmatch, dominio, uccisione confermata, questa modalità patrol che arriva il sabato del primo weekend e search and destroy che distruggi che arriva il secondo weekend. Per quanto riguarda le armi su champion heal ci sono i soliti funzionamenti per le armi da poter comprare e potenziare con i soldi mentre nel multiplayer classico abbiamo armi fino al livello 30 e tutti quanti i nostri loadout appunto come al solito come dovrebbe essere il multiplayer classico e non limitati a champion heal che provare armi con diciamo accessori casuali e quel tipo di potenziamento non funzionava per niente bene. Poi dice accessori e questo nuovo sistema di armaiolo che è quello di modern warfare ancora più aggiornato inizia a essere molto confusionario. Ricordiamo inoltre che ci sono tre tipi di modalità di combat pacing come lo chiamano loro a sledgehammer games quindi la parte tattica di assalto e blitz che è letteralmente una molto più classica 6v6 qualcosa di gigantesco con 20-28 player e qualcosa di ancora più frenetico allucinante 28-48 player quindi immagino le mappe piccole classiche onde giocatore 6v6 altre un po' più grande come se fosse tipo guerra terrestre o team d'assalto di cold war e stessa cosa blitz con mappe gigantesche e tantissimi tantissimi player. Speriamo sicuramente che nella beta non ci siano dei premi di server perché si inizia a buttare 28-48 giocatori nella stessa lobby potrebbe esserci sicuramente tanti problemi non magari il primissimo weekend che è solo playstation ma sicuramente con crossplay tra pc, xbox e playstation mi immagino diversi problemi o code infinite per entrare nei server. In più tutti quanti gli operatori 4 base con 2 aggiuntivi e ognuno ha una mossa finale questi sono appunto i cambiamenti e le aggiunte tra alfa e beta sicuramente tantissime cose che io già mi aspettavo e non vedo l'ora di provarla come al solito voglio vedere tutti quanti i cambiamenti tecnici di audio e tutto il resto che erano sicuramente importanti dovrebbero se ricordo bene anche se non confermato al 100% riaggiungere il FOV su console e non soltanto su pc come è stato fatto su Modern Warfare e Cold War dato che nell'alpha era mancante. Salto velocemente all'articolo di Charlie Intel per quelle che appunto sono le informazioni che già sappiamo ma ripeto come al solito per completezza. Il reveal del multigiocatore arriva il 7 di settembre alle 19 di sera e il primissimo weekend di accesso anticipato per quelli di playstation è tra il 10 e il 13. In seguito il secondo weekend 16 di 17 per accesso anticipato o open perché è su playstation e dal 18 al 20 è aperto per tutte quante le piattaforme quindi si può giocare per veramente molto molto tempo a questa beta provarla come si deve. Inoltre come abbiamo appena visto comunque alcune cose verranno modificate nel corso dei weekend quindi non sarà tutto per forza identico e potrebbero fare come ho fatto anche in passato in diverse beta di Modern Warfare e Cold War per dire alzare il limite di livello del giocatore e il limite di livello delle armi quindi darci altre aggiunte altre piccole cose da sbloccare anche perché la beta è l'ultima cosa che proveremo prima del gioco finale. Non sappiamo ufficialmente il peso di questa beta ma alcuni report dicono che la versione xbox pesa all'incirca 50 giga. È molto molto probabile perché se già per dire l'alpha su playstation era 36 diciamo che se aggiungi altre mappe, modalità, operatori, armi, accessori, tutte queste cose il peso per forza vola alle stelle per cui ripensando anche soltanto alla beta dell'anno scorso di Cold War era circa 31 giga su ps4, 21 giga su xbox one e 40 su pc. Penso che saremo circa allo stesso livello se non di più considerando anche l'engine di Modern Warfare. Qui ragazzi queste sono tutte quante le informazioni ufficiali da parte del blog di The Jammer Games per la beta di Vanguard e i cambiamenti rispetto all'alpha. Io come al solito non è che sia un player così gigantesco del multigiocatore ma appassionato di zombie, quantomeno interessato a vedere i cambiamenti e provare tutto quanto perché se mi trovo bene sul multigiocatore perché non giocarlo una partita ogni tanto non ha mai ucciso nessuno. Voglio sapere come al solito tutte quante le vostre opinioni se siete contenti di questi cambiamenti tra alfa e beta specialmente quelli tecnici ma anche finalmente provare un multiplayer classico che sia un deathmatch, search and destroy, anche queste modalità gigantesche quindi 28 player, 48 player, roba del genere e cosa vi aspettate un pochino di vedere o di poter provare. Il video quindi si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto vi sia stato utile, tutte quante le informazioni tra The Jammer Games, Call of Duty e Charlie and Tell sono qui sotto in descrizione, trovate anche tutti quanti i link per i miei social tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord. Ci vediamo come sempre a un prossimo video, un abbraccio, ava!